Mancano meno di 15 minuti all'avvio degli scambi sulle borse europee, abbiamo visto i future poco fa, un'indicazione che vede ancora i mercati tonici in partenza, ormai ci avviciniamo alla fine dell'anno, domani ovviamente faremo un bilancio dettagliato di quella che è stata la performance di Piazza Affari e non solo, di questo anno chiaramente così travagliato. Il 2020 vedremo poi anche un focus su Piazza Affari, sui titoli migliori e peggiori, intanto però andiamo a vedere la chiusura dei mercati asiatici perché qui arriva un'indicazione importante dal Nikkei di Tokyo, oggi ha superato i 27 mila punti a 266%, significa ai massimi dal 1990, quindi oltre 30 anni. Siamo in collegamento con Salvatore Gazziano, soldi e expert Gazziano, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. E allora partiamo proprio da qui, dai mercati, abbiamo visto la chiusura dell'Asa, stiamo vedendo ancora delle indicazioni sui mercati europei. Ci avviciniamo quindi, ci apprestiamo ad un fine anno ancora di fiducia da parte degli investitori che è dovuta a cosa? Probabilmente a quella firma di Donald Trump, al pacchetto di stimoli che ha mosso un pochino i listini negli ultimi giorni. Sì, sicuramente ci sono stati vari fattori positivi concatenati che hanno dato ulteriore sprint ai mercati di fine anno, compresa l'approvazione di questo nuovo pacchetto da 900 miliardi di dollari, che è stato come al solito travagliato nel congresso americano, ma anche lo scampato pericolo nel vecchio continente di un no deal che ha galvanizzato tutto sommato le borse europee, soprattutto quella tedesca, dove è da rimarcare il nuovo massimo raggiunto dall'indice DAX e anche da riflettere per se fossero in ascolto dei politici italiani, visto che abbiamo ieri visto 13.819 dell'indice DAX, praticamente il nuovo massimo storico, quindi è uno tra i mercati che non solo borsisticamente dal 2007-2008 è letteralmente decollato e mi permetto di fare un confronto che piazza affari rispetto ai massimi del 2007, credo che sia tuttora compresi i dividendi sotto del 22-23%, quindi ancora in negativo, mentre non solo la Germania ha raggiunto i massimi, ma è salita di circa il 100% dai massimi del 2007-2008 e questo dà l'idea, lo si è visto ieri nel listino azionale tedesco, ma lo si vede da anni, sul fatto che in Europa alcuni paesi si muovono come dei veri locomotori e stanno realmente creando un vuoto intorno, e fra questi sicuramente la Germania, mentre paesi come l'Italia da anni, nonostante programmi che ancora oggi continuiamo a leggere, nonostante poi nelle finanziarie e nelle leggi di bilancio vengono messe operazioni veramente discutibili, se non tragiche o ridicole, il nostro paese rimane indietro e noi come consulenti indipendenti, quello che possiamo fare nei portafogli, abbiamo investito e aumentato l'esposizione sul mercato tedesco sicuramente negli scorsi mesi, come sui mercati asiatici, perché i vincitori della pandemia c'erano prima e ci saranno anche dopo, naturalmente quello che diceva della sua domanda, quello che sta divergendo è proprio uno scenario dove il mercato in realtà sta facendo molto bene i conti su quali saranno i vincitori e vinti, anche dall'Asia, il nuovo record del Giappone che arriva addirittura a un massimo dopo 30 anni, piuttosto che la Corea del Sud, ci danno l'idea che c'è una parte del mondo che comunque sia a livello di personale politico, in Italia ricordiamo che abbiamo in questo momento il trio di comando Esperanza, Arcuri e Conte, persone che non hanno certo una grande curriculum di esperienza o di execution di qualsiasi cosa in qualsiasi campo e questi paesi invece stanno mettendo in campo misure, questa notte la Corea del Sud e nuovi interventi, ma soprattutto cose concrete, digitalizzazione, non baracconate tipo primule per vaccinare, e il mondo, i mercati non sono così irrazionali come qualcuno pensa che dice che vi è uno scollamento fra economia e borse. Gazziano, le volevo fare una domanda sul comparto tecnologico che è un settore che è anche sempre sotto i riflettori dell'antitrust, delle autorità, abbiamo detto del caso Alibaba di questi giorni con una nuova indagine che è stata aperta dall'antitrust cinese, anche poi con forte ripercussioni sul mercato. Voi che previsioni avete su, ripeto, un comparto che resta diciamo sempre in primo piano, non soltanto per le performance, ma anche per quelle che sono le attenzioni delle diverse autorità? Sì, sicuramente quello sto scorso diciamo di fine 2020, il caso sicuramente di Alibaba che è arrivato a perdere il 25-30% da ottobre ed è ritornata indietro molto nelle quotazioni per l'intervento centralizzato e centralizzante delle autorità di Pechino che nei confronti di Jack Ma hanno iniziato a prendere le misure a livello di antitrust e di non allargarsi troppo in tutti i settori del fintech dall'idea sicuramente di una mutata sensibilità dove naturalmente in un paese molto autoritario come la Cina rischio e opportunità, si è visto nell'arco di poche settimane materializzarsi e già di fatto Jack Ma in questi giorni ha chinato il capo e ha detto che cercherà di, anzi non cercherà, sicuramente si conformerà. Sui paesi occidentali sicuramente quello che c'è sullo sfondo dei colossi come Amazon, Apple e quello di una mutata sensibilità anche del mondo politico europeo o americano che in questi anni hanno lasciato veramente molto le briglie sciolte creando dei colossi che hanno fatto terra bruciata in condizioni di nessun rispetto di norme di competizione fiscale. Però ricordiamo che proprio in questa direzione ci sono degli impulsi importanti arrivati nelle settimane scorse da parte dell'Europa a livello di regolamentazione e soprattutto sulla concorrenza con delle sanzioni che possono essere anche molto pesanti per le aziende che chiaramente non andranno a rispettare queste regole. Quindi questo è stato un risultato importante, sono arrivati dei segnali a livello europeo ma anche a livello americano di regolamentazione. Tutto questo vedremo poi se sul lungo periodo avrà anche un effetto sui mercati. Gazziano, le volevo chiedere un'ultima cosa invece sulla Brexit. Si è chiuso ormai definitivamente il capitolo sulla Brexit, anche se adesso attendiamo un voto che dovrebbe essere una formalità all'ultimo voto a livello sia nazionale in Gran Bretagna che europeo. Sì, penso che sicuramente il Parlamento inglese dovrebbe in questi giorni approvarla e poi in via provvisoria di fatto diventa esecutivo a livello anche di Eurozona, di Unione Europea. Sicuramente è stato un accordo travagliato dove sicuramente le attese, le attenzioni sono adesso a vedere cosa succederà anche sul mercato azionale britannico che è stato fra quelli più sacrificati nel corso del 2020 per effetto del rischio di un no deal e non solo perché è un paese che è rimasto molto esposto alla pandemia ed è un listino comunque che come nel settore tecnologico ci sono comunque ancora società che hanno tipi interessanti anche nel mercato inglese potrebbe essere una delle scommesse su cui guardare nel 2021 perché è composto da molti titoli ciclici, molti titoli esposti alla ripresa internazionale, molti dei primi 10 titoli del Fuzzi 100 sono veramente multinazionali globali, pensiamo a Unilever e non solo e quindi sicuramente a questo punto i mercati riguardano non solo la sterlina ma anche l'azionario inglese che presenta a livello europeo fra le valutazioni più depresse e storiche degli ultimi 10 anni sicuramente. Grazie, grazie Salvatore Gazziano per essere stato con noi il Soldi Expert, grazie e auguri di buon anno. Grazie anche a voi.